Pop e politica. Joe Biden ha incontrato alla Casa Bianca e BTS la band sudcoreana di fama mondiale. Obiettivo della visita far leva sulla popolarità del gruppo per sensibilizzare l'opinione pubblica contro i crimini di odio rivolti alle minoranze asiatiche. Il live stream dell'evento ha registrato numeri da capogiro. Un quarto di milioni di persone erano sintonizzate per vedere la band.